benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui in un nuovo video di stumble guys ma non proprio su stumble guys sulla versione 0.39 perché andremo a giocare in una versione una versione più old una versione più antica di stumble guys come vedete io non ho stumble guys in nessuna cartella non ce l'ho non c'è proprio stumble guys non c'è proprio niente vedete ecco non c'è niente neanche stumble guys perché dovete risistallarlo e andare su google stumble guys ci si aprirà questa pagina dove potremmo giocare su pc ultima versione e poi versione precedente schiacciando su versione precedente abbiamo tutte le versioni di stumble guys e la versione che andremo a disponere noi è la 0.20 andiamo a fare il download e andiamo ragazzi ci rivediamo quando ha finito di sfaticare ok ragazzi ha praticamente finito ok ha finito andiamo a cliccarci sopra ed installare stumble guys andiamo subito ad aprirla che è appunto come avete visto l'apertura del gioco è molto diversa perché è una delle prime versioni di stumble guys ora appena arriverà qua non vi si aprirà quindi uscite aspettate 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 ok allora uscite chiudete il gioco e tornate e aspettate e tornate sopra il gioco così vi si aprirà è solo un bug della della prima entrata quindi state tranquilli vedete vi è entrato subito saremo collegati subito con il nostro account della versione attuale in categorie leggenda e niente erano tutte una sola rarità e c'erano pochissime skin quindi molto probabile sbloccarle tutte anche in pochissimi giorni quindi ragazzi non mostrare la nostra gallinella di fiducia e vi faccio vedere e cominciamo a giocare in questo in questa versione vecchia quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi e lasciate like attivate la campanellina per supportare al meglio questa versione che secondo me sono fatte meglio le versioni precedenti quelle attuali quindi ragazzi mi raccomando lasciate like iscrivetevi e attivate la campanellina per non perderevi anche tutti i miei video su stumble guys ma anche su altri giochi intanto aspettiamo perfetto praticamente in corsa e ancora non si vedevano neanche le mappe che sceglievi invece nella versione ora si come un bambuimbo è un bambuimbo l'ambul sabbolo è molto ... perchè? sono fortissima come è un golpe di metodo e uno degliplicati di libia non non ricordo quale però è forte è forte quando lo ha detto e uno spettino e qui ok io sto provando insieme a voi questa versione perchè ho visto solo video su questa versione non l'ho mai provata quindi non immaginavo che fosse così beh è un po' strano però vabbè però la gente bisogna vedere vabbè vediamo ancora la pietra e noi siamo indietro qualificati ancora non ce l'hanno fatta ragazzi poi con tutti qualificati perfetto ragazzi tutti qualificati io ho messo direttamente video ragazzi andate a vedere subito il video no se tocco il verde ho perso la sfida perfetto è una mappa con cui ho perso la prima volta che ragazzi 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 7 e 8 immaginatevi sulla nuova versione sulla vecchia versione ma che ragazze stanno intendo cerchiamo di fare il trucco siamo primi? certo, siamo primi dai però che pizza sono mia per me lo spettacolo sì 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 no 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 che pizza Capito che è impossibile vincere per me Che cattivella Pubblicità finita dopo tre anni Ma va bene Prontissimi ragazzi Prossima partita Ragazzi mi raccomando Se volete fare parte del mio team Iscrivetevi al canale E commentate Con asta che voglio fare il provino Sotto i miei video Che così nella live di StumbleGuys Vi farò il provino No 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 Ok Ok, non avevo più bloccato, io sono prima, forse, io sono prima, sono prima ragazzi. Ok, perfetto. Se mi dimentico da questa matta, io sono perfetto. No, no. Devo fare tutto con i compagni, quindi è impossibile. Non so, 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 non so. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Ma che sta fatendo da quella? Vabbè, ci vedete che ancora i compagni. No, 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 no Ok, veramente Finalmente No, 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 non lo dire No, 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 no Ok, la vedete No, 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 no No, 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 no non è vero il è un po' di farne anche un rollo ma è pura cosa confermai e ragazzi sono un po' diarga nel colombo non è un po' diarga non è un po' diarga non è un po' diarga ma cosa faccio? stai dovuto poterlo non è un po' diarga non è un po' diarga nooo va bene ma non ti arroi un po' che è il po' diarga va bene va bene non è un po' diarga non è un po' diarga non è un po' diarga ah 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 due uno qualificati, setto a due dai raga dai raga ultimo no si la paraccia la paraccia no la so fare più prova la paraccia 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 la paraccia